ciao sono michele tuveri di highway distillery e oggi parliamo di campfire credo che questo sia uno dei whisky più interessanti sul mercato perché è uno dei primi e forse forse il primo blend di bourbon rye scotch torbato questo è un blend di esattamente quattro whisky abbiamo due rye 1 85 per cento rye 15 per cento rye maltato un altro 95 per cento rye e 5 per cento orzo maltato e poi abbiamo il bourbon che circa 75 per cento mais è una piccola quantità di scotch torbato che appunto ci dà quel quel finale affumicato perché unire questi quattro whisky il rye ci dà la speziatura e la complessità il bourbon ci dà la morbidezza e i sapori di vaniglia e caramello e lo scotch torbato ci dà quel finish affumicato appunto questo è un fantastico prodotto da utilizzare come gateway o prodotto ponte per gli amanti del whisky torbato che si vogliono avvicinare ai whisky americani o al contrario se si è un amante dei whisky americani e ci si vuole pian piano avvicinare ai whisky torbati a differenza degli scotch che normalmente sono light body quindi hanno un corpo abbastanza leggero questo è un whisky full body è un whisky naturalmente dolce ovviamente non ci sono zuccheri o additivi aggiunti però abbiamo quel finale affumicato che lo rende assolutamente molto interessante io lo accomuno sempre a un marshmallow che è stato cotto bruciato un po sul sulle fiamme di un di un fuoco in su un prato è assolutamente delizioso bevuto liscio io vi consiglio di assaggiarlo prima senza niente e poi se volete alleggerirlo un po di aggiungere magari una goccia d'acqua un cubetto di ghiaccio fatto con acqua naturale e poi se volete avventurarvi nel mondo cocktail con questo potete preparare un manathan assolutamente unico grazie appunto al finish affumicato grazie a tutti